Buone palese. Io devo aspettare che le persone che non riescano a votare votino. Abbiamo fatto? Bene, la votazione è chiusa. Presenti 435 votanti 375, astenuti 60, maggioranza 188, farò di 259, contrari 116. La Camera approva. A questo punto votiamo l'articolo 10. Se nessuno chiede di intervenire, chiedo scusa. Stiamo all'articolo 11. Chiedo scusa, parere sull'emendamento 11.1. Parere contrario sull'unico emendamento. Grazie, onore Federica. Parere favorevole. Governo. Conforme ai relatori di maggioranza. Grazie. Allora, essendo questo un emendamento soppressivo, non votiamo l'emendamento soppressivo, ma il mantenimento dell'articolo. Quindi votiamo il mantenimento dell'articolo 11, la votazione aperta. Chi non riesce a votare? Cova. Costantino. Ok? Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 429 votanti 373, astenuti 56, maggioranza 187, favorito 255, contrari 118. La Camera approva. Abbiamo ora, onorevole relatore, l'articolo aggiuntivo...